Vigilia di Inter Brescia, siamo con Antonio Conte, si prepara in pochi giorni l'ennesima partita. L'imperativo è sempre quello, non guardare la classifica, guardare all'avversario la prestazione e ai tre punti. Sì, assolutamente. Pochissimo tempo per preparare la partita con il Brescia. Però sappiamo qual è l'obiettivo, giocare, fare una buona partita, cercare di ottenere il massimo, sicuramente di ottenere i tre punti. Sappiamo che è un mini torneo e abbiamo bisogno di ottenere la vittoria. In un momento difficile qual era la gara contro il Parma dopo la prestazione risolta contro il Sassuolo? E dopo quell'inizio, con il gol dopo un quarto d'ora, venti minuti del Parma, si è vista un Inter di grande carattere, di grande forza, di grande determinazione. Che con fatica, perché per carità nel calcio ci sta anche di dover soffrire per ottenere il risultato. Però penso che ti abbia dato soddisfazione vedere questo tipo di atteggiamento da parte dei tuoi, questo tipo di reazione. Sicuramente a subire il pareggio in casa contro il Sassuolo al novantesimo potrebbe essere una mazzata, da un punto di vista psicologico. Abbiamo giocato contro una squadra che era in ottima salute come il Parma. Sono soddisfatto della prestazione, soprattutto del secondo tempo, della reazione che hanno avuto i ragazzi. Sì, abbiamo preso sicuramente un gol evitabilissimo, però al tempo stesso siamo stati bravi a mantenerci in piedi, a stare sul ring e poi alla fine vincere la partita, ottenere tre punti importantissimi contro una squadra che secondo me ha anche dei buoni valori. La tua Inter detiene il record di giocatori mandati in gol, cioè fermare l'Inter non vuol dire fermare Lautaro Lukaku perché segnano veramente tutti. Dimostrazione è seguita a Parma dove sono arrivati i gol partita dai due difensori. Sì, assolutamente, ci sono tantissime cose positive. Bisogna sempre vedere chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto. In questo periodo penso che tutti quanti abbiano interesse a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e a creare problemi all'Inter. Di sicuro noi dobbiamo proseguire per la nostra strada, lavorare, cercare di migliorare, sapendo che gli altri comunque hanno grande rispetto nei nostri confronti. È un caso o no, secondo te, che tante partite in questo periodo si decidano con delle rimonte, con dei gol, proprio nei minuti finali? È successo veramente in tante gare, pur avendo giocato poche giornate? Giocando in maniera così ravvicinata, soprattutto a queste temperature, è inevitabile che le energie iniziano a scarseggiare, soprattutto nella parte finale della gara. È molto importante i cambi, chi entra dalla panchina, perché con la possibilità di avere cinque sostituzioni c'è la possibilità di portare nuova energia, energia fresca durante la partita, chiaramente ridare di nuovo vigore e vitalità magari alla manovra. Più avanti andremo, secondo me, ne vedremo, ne vedremo fino alla fine, sicuramente ci saranno situazioni che si possono ribaltare, situazioni da ribaltare. Stellini era molto contento a fine parità, ha detto, mister, missione è compiuta, io i tre punti li ho portati a casa. Sì, per Cristian diciamo che è stato un ottimo esordio, un ottimo battesimo. Sono molto contento dello staff, del lavoro che fanno, del rapporto che hanno creato con i calciatori, quindi da questo punto di vista ero molto tranquillo. Che Brescia ti aspetti? Mi aspetto un Brescia che viene a San Siro per fare risultato, anche perché il Brescia è inevitabile che essendo ultimo in classifica ha bisogno di giocare ogni partita per cercare dei punti, quindi ha bisogno di punti, cercare dei punti su ogni campo. Quindi bisogna fare grande attenzione, al tempo stesso noi abbiamo voglia di fare i punti, siamo settati di punti e abbiamo voglia anche noi di vincere. Senti, rimane un po' di emergenza nella zona centrale del campo, anche se si è rivisto Barella nella gara di Parma. Hai sfruttato molto la rotazione, li tieni tutti in pista praticamente, perché abbiamo visto giocare la primo minuto Godine e D'Ambrosio che mancavano in campo da parecchio tempo, la rotazione dei difensori, la ritazione sugli esterni molto durante la partita. Solo a centrocampo sei un po' condizionato in questo momento nel dover fare le tue scelte, ma dalle assenze. Sì, ma non dimentichiamo che contro il Parma mancava anche Skriniar che ha preso comunque tre giornate di scolifica. È inevitabile che giocando ogni tre giorni, ogni tre o quattro giorni, hai bisogno di fare delle rotazioni, ma proprio per necessità. Hai bisogno anche a volte, se ci sono situazioni 50-50, da un punto di vista di rischio, di infortunio, di non rischiare. Perché sai che nella gara contro il Sassuolo abbiamo preferito non rischiare Nicolò, che aveva questo affaticamento. Avremmo potuto rischiarlo e perdere poi per il finale di stagione. Quindi ci sono situazioni nuove, ci sono situazioni che bisogna affrontare con la testa, avendo grande fiducia in tutti i calciatori. Io ho grande fiducia, si sono allenati tutti nella giusta maniera, tutti sanno che cosa devono fare in campo e quindi è giusto che ci siano delle rotazioni. L'importante è che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, che sia una vittoria. Assolutamente sì. Molti vorranno sapere se Brozovic recupera, quando recupera. Io penso che magari mai come in questo momento, con le gare così ravvicinate, ci debba essere grande attenzione da parte vostra, come tu hai detto poco fa Berbarella, aveva un leggero affaticamento, abbiamo preferito non rischiarlo, perché poi se lo perdi giocando ogni tre giorni rischi di perderlo per due o tre partite. Sì, diventa fondamentale. Diventa fondamentale a volte prendere le decisioni e, tra virgolette, rinunciare ai giocatori quando li potresti rischiare. Però non avrebbe senso, perché rischiare i giocatori con il rischio di perderli poi per il resto della stagione sarebbe un errore imperdonabile. Quindi, ripeto, grande fiducia in tutta la Rosa, in tutti i calciatori che sono a disposizione. Quindi stiamo sopperendo a questa emergenza a centrocampo, perché abbiamo parlato di Brozovic, di Barella, anche Vesino Essenzi. Sì, sono quattro su sette centrocampisti, però questa è la strada. Brozo e Vesino penso che siano comunque vicini ad un recupero abbastanza immediato. Per Stefano ci vorrà un po' più di pazienza. Un'ultima. Mi sembra che quando entrano i campi, cioè quando fai i cambi, riesci sempre, sei sempre riuscito a ottenere qualcosa di importante dai ragazzi che entrano. Penso a quello che ha potuto dare Lautaro contro lo Sassuolo o di contro Sanchez nella gara di Parma. Sembrano quasi caricate a molla. Pronti dentro, subito a cento all'ora. Anche questo è frutto del lavoro che fate quotidianamente da piano. Sicuramente il fatto che i calciatori lo sanno, i calciatori lo sanno che c'è una partita, c'è un undici iniziale e durante la partita sanno benissimo, soprattutto in alcuni ruoli, che ci sarà un cambio, anche perché ci sono dei ruoli dove c'è un maggior dispendio di energie e giocando ogni tre giorni hai bisogno proprio di dare un'alternanza, una rotazione, sia durante la partita che cambiare magari di partita in partita. Chi entra da sempre il massimo, così come chi inizia la partita, a volte si è determinanti, altre volte un po' meno. Io mi auguro che da qui la fine sia l'undici iniziale che chi entra dalla panchina sappia dare sempre il cento per cento. Buona partita mister. Grazie.